Sapete chi è stato per tantissimi anni il rivale storico di Albano Carrisi? La sua morte lo ha sconvolto ed ha lasciato un vuoto immenso L'Italia intera per tantissimo tempo è stata in lutto per la scomparsa di Toto Cutugno, venuto a mancare all'età di 80 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia Ricoverato a Milano, il cantante ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli italiani, che lo hanno ricordato con affetto durante il suo funerale, intonando la sua canzone più iconica, l'italiano Numerosi artisti hanno reso omaggio al grande cantautore, tra cui Albano, che ha colto l'occasione per mettere a tacere una vecchia diceria sulla presunta rivalità tra lui e Cutugno, rivelando invece un rapporto di profonda amicizia Durante i funerali di Toto Cutugno, l'affetto del pubblico italiano è stato evidente, con molte personalità dello spettacolo presenti per rendere omaggio Tra i presenti, Gianni Morandi e Pupo hanno partecipato alla cerimonia, tuttavia, il ricordo di Cutugno ha avuto un eco globale come del resto è anche normal che sia Albano, tra i tanti, ha attirato l'attenzione del pubblico e dei media per il suo intervento, in cui ha voluto chiarire un aspetto che ha condizionato la percezione della loro carriera nel corso degli anni Non esisteva alcuna rivalità tra lui e Cutugno, bensì un legame fraterno, come ha sottolineato con forza Albano ha spiegato che lui e Cutugno non erano rivali, anche se tutti pensavano lo fossero, ma piuttosto amici molto intimi Ha raccontato che, solo tre mesi prima della scomparsa di Cutugno, il cantante lo aveva chiamato per fargli gli auguri di compleanno, e che l'anno precedente si erano incontrati a casa di Cutugno, dove Albano aveva notato che l'amico Noon stava bene Questo episodio ha evidenziato la profonda amicizia tra i due artisti, andando contro le voci che parlavano di rivalità Un altro esempio del forte legame tra Albano e Cutugno risale al 2004, quando a Cutugno fu diagnosticato un tumore alla prostata Albano intervenne per aiutare l'amico, indirizzandolo verso un centro specializzato per le cure necessarie Ricordando quel periodo, Albano ha spiegato come Cutugno gli avesse chiesto consiglio poiché aveva contatti presso l'ospedale San Raffaele, e che grazie al suo aiuto, Cutugno poteva ricevere le prime cure e diagnosi Nonostante le previsioni iniziali fossero di soli cinque mesi di vita, Cutugno riuscì a resistere per altri vent'anni, dimostrando una forza incredibile La carriera di Cutugno, brillante e costellata di successi, ha visto i due artisti collaborare in numerosi duetti e canzoni Albano ha ricordato con affetto questi momenti, descrivendo Cutugno come un vero menestrello della musica popolare colta La loro collaborazione artistica e la loro amicizia personale hanno rappresentato un importante capitolo nella storia della musica italiana, e la scomparsa di Cutugno lascia un vuoto profondo, mitigato solo dai tanti ricordi di affetto e stima reciproca che hanno condiviso